ah porcodile che merda ciao ragazzi allora non so se mi spiego eh cioè io me li so fatte da solo i capelli porcodile la madonna di cristo guarda guardate cioè il taglio che è fatto bene però mi ha fatto una cura che se io li voglio arricciare metto le mollette se no con due passate di spazzola a porcodile la madonna di merda guardate che acconciatore non è chissà a porcodile la madonna di cristo è vero vedi quando facevo così era meglio porcodile la madonna di cristo vabbè comunque a porcodile la madonna di cristo li dovevo un po più spazzolare qua davanti dovevo più al liceo vabbè fatte la breve che se no ci ne è per i macchi facciamola a breve per farla da sola è venuta buona guarda a porcodile la madonna il ciuffo che cavalca l'onda 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 del mare allora ragazzi io me ne vado oddio scusate il cellulare io me ne vado a messa ma io a detta di tutti vabbè questa purtroppo è la coprolalia che mi fa dire queste parole ma io mi sento cristiana non cattolica perché comunque vabbè se no facciamo notte cristiana nell'animo perché quando penso di far qualcosa di brutto io mi dico l'atto di dolore e vivo in certi oggi ho letto un bel commento di una persona dice forse lei vive ma non questo per elogiarmi vive molto meglio i valori che non viviamo noi anche se continuate a dire delle cose bruttissime su questo mio aspetto che purtroppo io non posso farci niente cioè se una è nata che il lucchio azzurro non è che se le può mettere marrone io sono nata e cucì e cucì sono diventata cucì cucì meeting quindi voi ci andate a messa ma non per fare le petticolarii oppure per vedere oppure per scrivere dammi que dammi que fammi que per ringraziare per ringraziare così si va a messa per ringraziare ci andate io penso molti che non ci vanno fatemi sapere ma non per fare petticolezze per vedere quelle come sta vestiti che l'altro come sta vestiti l'omelia speriamo che fa veloce quella è nella messa oppure dire mettere la cosa fammi trovare il lavoro fammi trovare quello fammi trovare cioè chiedere 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 quelle ne è la messa quelle ne è la messa la messa è andare a ringraziare per come stiamo a porco dire la madonna di merda ok ciao soate una messa un messa è sermone purì